Un po' pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla FIPILI chiusa per lavori l'uscita di Livorno Porto in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze possibili disagi per la chiusura dello svincolo di Poggi Bonzi Nord. Scambio di carreggiata per lavori tra l'allacciamento A1 di Firenze in Prunita e San Casciano. Sulla Siena-Bettolle per lavori chiuso lo svincolo di Sinalunga in ingresso e in uscita in direzione Siena. Sulla statale 1 Aurelia chiusura dello svincolo di Monte Pescali in direzione Livorno. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!